Oggi il calcio ha scorbato, duro smarino ingegnere. Rezzettiamo, la miseria che cravapalata, testa pelata che ha fatto i tortelli e non gli ha dato dati ai suoi fratelli. Me la ricordate? Fantastico. Io avevo l'Enciclopedia dei 15, secondo me qualcuno se la ricorda. L'Enciclopedia dei 15 era questa serie di volumi per i bambini, direi, perché io me li sfogliavo e risfogliavo e avevo una particolare predilezione per il volume con le filastrocche. E credo che ci fosse proprio cravapalata, c'erano diversi interessanti, adesso non me ne ricordo manco uno, ma credo che mia mamma a casa li abbia ancora, devo andare a recuperarli. Allora, nel frattempo, nel frattempo cambiamo quel titolo, cravapalata purtroppo non ce l'abbiamo direi, però abbiamo con crepare, che ha solo cr, uguale a cravapalata, quindi via. Gli leggendari o me malgrado, tu rosmarino ingegnere, meraviglioso, meraviglioso. Allora, questo giro, però abbiamo calcio ascorbato, cacchia bai, Susina Nuziale, correre, diventare Samsung, avvicinare, contenere, dentro stipetto, il lippopotamo, estendere, eni, noioso ritrovare, muovere, turrosmarino fosfato di magnesio. Negativo serboacea, no, questa roba qua mi fa schifo, labirintico tu, paccato, malto, a meno che lisura, ognuno davanti, aprire, ossia recare, acqua marina, dodicil gallato, pezzente, trattare e continuare, dopo demente, ornamentale. Molto bello, molto poetico, momenti di raro entusiasmo. Io parto da sotto, vediamo se becco le basi nuove. Questa è proprio nuova, no, no. Noi cantiamo turrosmarino ingegnere. Direi che sì. Vado. Oggi il calcio ha scorbato, duro smarino ingegnere. Oggi il calcio ha scorbato, duro smarino ingegnere. Susina Nuziale, correre, diventare Samsung, avvicinare, contenere, dentro stipetto, il lippopotamo. Tutto nuovo, non è un calcio, ma non è un calcio. E di noioso ritrovare e muovere. Durrosmarino ingegnere. Fusfat di magnesio. Un calcio. giù è un smarino, un cofatto di magnesio, labirintico più alto a meno che davanti aprire, Ossia regare acqua marina, dove circa l'alto e zente, parlare e continuare dopo un demente ornamentale. Grazie per la visione!